mi chiamo giulia e vivo a pisa a basso il livorno ultimamente tutti parlano di grisi ma io sono ottimista tanto mi pa è ricco che fa schifo al maiale forse perché a me mi garbano le osse semplici io preferisco andam bici che in una macchina da poltaioni e piuttosto che andare sort mi garba di più andam vanza dalla minonna che sta davanti a soffioni boraciferi di larderello e infatti la su casa puzza di palude preferisco la pasta o la pomarola arzushi che sono a sega io se si deve spendere 100 euro per mangiare pesce grudo quando a bocca d'arno con 5 euro ti danno tanti di vei muggini che ti sfondano il cassone del lapino preferisco il castagnaccio al caviale e la stiacciata con la cecina al patema d'animo perché invece di andare a una cena di gala preferisco stare tutti a casa di zio nedo a mangiarli tutto il conigliolo con l'ulive che la sua mamma è sempre lì che smoccola con una bella spuma di acciata che poi ti viene anche la mossa di orpo e comunque bella figura il livorno che dovevate andare diretti in serie a e invece bevete la spuma bionda che vi fa buono mica tutti i troiai c'è a giro oh Giulia vieni a desinare stasera ti ho preparato la gorpe io 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 io